Ed il ragazzo vi mostrerà il suo talento Per questo deve sfruttare al meglio le occasioni che gli porta il vento Lenta è la strada per giungere lassù Ma la pazienza è l'arma che ci aiuterà di più Tu devi scegliere qual è la tua via Non sarà semplice ma ci riuscirai per farlo da tutta la tua via Tu devi scegliere qual è la tua via